www.redigio.it e la storia continua Cronache Varesine è la puntata numero 1 Tratto dei giornali Le cronache dal 1868, data del primo articolo riguardante un comune in questione, ai primi decenni del Novecento, sono caratterizzate dall'annunciazione di fatti ritenuti di qualche particolare rilievo. L'eccezionalità di un evento, la celebrazione di momenti importanti per la comunità, i risultati di attività sociali, i riscontri di immagine e di figure emergenti, i risvolti socio-economici delle attività lavorative. Accostandosi ai testi costruiti con intensità linguistica, tale da creare un'immediata interazione con il lettore che diventa compartecipe all'avvenimento. Si percepiscono quei valori che la società di allora riconosceva come parte fondante di se stessa, come elementi qualificanti dell'esistenza umana. La patria, la famiglia, il lavoro, il dovere, la collaborazione, la condivisione, la tolleranza, il confronto. La stampa locale in questo periodo, rappresentata da un numero limitato di testate, ciascuna composta da pochi fogli che raggiungono un esiguo numero di lettori, i pochi, in grado di decodificare messaggi attraverso la lettura, testimonia la volontà di crescere, costruire, istruirsi, che le comunità esprimono attraverso variegate espressività. Rileggere, seguendo un ordine cronologico alcune pagine significative, intense pennellate di vita che evochano ricordi, consente di avere memoria dei trascorsi di quelle generazioni che hanno costruito il nostro presente. Urfa insegna a Fa È la cronaca varesina, il giornale che comunica la notizia di un'importante opera pubblica da realizzarsi nei comuni di Cocchio e Trevisago. programmata da pespicaci amministratori, e così recita. I comuni di Cocchio e Trevisago, Gavirate, hanno deliberata la costruzione di un importante acquedotto, che darà abbondante e provvista d'acqua alla Caldana, Carnisio e Cerro, frazioni dei comuni stessi. L'opera costerà lire 17.000 e sarà, a quanto sappiamo, incominciata tantosto. Lodi e congratulazioni all'attività sagace e profida di questi comuni. Il disagio esistenziale non è ascrivibile ad alcun tempo e in alcun luogo. E' una realtà con la quale generalmente si è chiamati a confrontarsi, quanto ha già decretato il suo epilogo. E si parla di un suicidio. Nel giorno 25 del mese di giugno fu un invenuto cadavere, appiccato a un gelso Andreoli Gaspare, di anni Sessanta, di Cocchio, il quale era già da tempo affetto di pellagra, malattia che porta spesso al suicidio. Finché a Gheffia, Ghevita L'imprevedibilità meteorica mette a dura prova la non florida economia contadina, da sempre vessata dall'avida bramosia dei padroni. Basta però un raggio di sole perché se riaccende la speranza. Agricoltura Cocchio 29 Corrente Abbiamo passato una brutta settimana. Il povero bacchicultore, con i suoi tavolati di bacchi a nutrire a poca foglia nel campo, ogni giorno decimate e deteriorate da freddi e brine, si sentiva proprio inchiodato sul letto di procuste. Il bel tempo, però, ricomparso, apre il cuore della speranza. Io ho già avviato nel bosco una trentina di tavole di bacchi. È molto bene, ma non tutte le uova nel paniere sono uguali. E purtroppo vidi che nella vicina vacuvia, vergiate, cadrezate e altrove, partite le quali, meglio che coltivazione normale, dovrebbero chiamarsi i supestiti del naufragio. Perché? Perché? Freddo. Alla rete del raccolto, quindi, molti si troveranno mistificati e pur contando tanti cartoni e tante once messe al covo, non potranno contare molti chilogrammi di galletta. Il raccolto non sarà così abbondante come si crede. La foglia ebbe ricerca a dodici e più lire il fascio milanese, colpa in gran parte dell'ostinato freddo. E' un po' anche certi ingordi padroni che non incetta una vera razzia fanno di foglia, per volere dare ai propri coloni il doppio di quanto può essere sostenuto dai fondi, col quale e quanto vantaggio loro non saprei, con danno e demoralizzazione del colono certamente. Ecco la nuova forma di tirannico feudalesimo.